Il live in game ha avuto semplicemente più fortuna, lo Sporting Sant'Anna ha tirato diversi gol, alcuni sono stati micidiali, li pariagoniamo alla Maradona, abbiamo un giocatore che si chiama Emanuele, il numero 11 che è fortissimo in questa squadra, comunque qui con noi presento un giocatore della squadra, facciamolo presentare. Ciao sono Alessandro Frontini, come dice il mister metronomo dello Sporting Sant'Anna, più metronotte che metronomo, avviene così. Come giustificate il risultato di oggi, visto che è considerato che secondo me a mio parere è stata la miglior partita dall'inizio dell'anno? E niente, il problema nostro è tenere fino alla fine, sia a livello fisico che a livello mentale, poi vabbè siamo una squadra che gioca insieme da poco, abbiamo tanti ragazzi giovani quindi è normale fare fatica in campo a livello di coinvolgimento e tutto, però ce la siamo giocata, fino a metà secondo tempo eravamo ancora in partita, poi un po' di stanchezza, un po' di acciacchi vari, loro sono usciti e niente, è finita come è finita, però sì, se si guarda la partita, chi ha visto la partita sa che cosa sarà, 8-2, 9-2, non lo so, non è il risultato più giusto, a mio avviso, poi ognuno la pensa come vuole. Io ti ringrazio, grazie per la disponibilità, ripeto anche secondo me il risultato è sfalzato, io lo ripeto, secondo me doveva finirsi con un pareggio, con una vittoria, tutto rispetto anche per l'altra squadra che ha giocato tra l'altro anche loro molto bene, comunque io ripeto, ci sarà poi anche il ritorno, comunque se giocate tutte le partite così io vi faccio i complimenti.